E' una passione rossa, dolcissima, che da qualche mese sta occupando gli spazi dei negozi di frutta di tutta Italia. L'Emilia Romagna è parte attiva di questo progetto che vede la realizzazione di un'anguria dalla buccia nera, dolcissima, con pochissimi semi, che promette di essere molto versatile in cucina e che è stata presentata questa mattina alla stampa. E' frutto di ricerca italiana, come la nostra azienda, al 100%, è un prodotto nato da una collaborazione con dei partner, un progetto di ricerca nato e sponsorizzato dal cliente finale. Questa per noi è una grande idea. I partner sono Castello Ortofrutta e Alma Seiges, che oggi si è aggiunto anche il gruppo Lorenzini. Le caratteristiche sono, a parte l'alto grado del zuccherino, che abbiamo espresso più volte, abbiamo lavorato partendo da materiale d'alto contenuto licopene, quindi molto rosso, ricco di fibra e di buccia molto sottile. La ricerca è iniziata circa sette anni fa, da una collaborazione con questi nostri partner, tempo, tanto. Quando si fa ricerca non si fanno bulloni, quindi è molto impegnativo anche dal lato umano e di tentativi, perché non è che facciamo bulloni, facciamo ricerche sui vegetali e usando ricerca genetica tradizionale dobbiamo testare in campo e vederla noi, fisicamente e visivamente. Quindi è stato un impegno abbastanza lungo. Il prodotto è stato presentato per la prima volta alla rassegna McFruit di quest'anno, riscuotendo un enorme successo. La forma, il sapore e il peso sono frutti di anni di studi e al taglio il gusto promette di far innamorare anche i più scettici.